la piccola baronessa de grangerie sonnecchiava sulla sua poltrona sdraio quando la giovane marchesa di renne don entrò improvvisamente tutta agitata col colpetto un po' gualcito il cappellino un po' sghimbescio e si lasciò cadere su una sedia dicendo uff è fatta l'amica che la conosceva come una signora calma e posata si sollevò di scatto molto sorpresa e domandò che cosa che cosa hai fatto la baronessa che sembrava non potesse star ferma si mise a passeggiare per la stanza poi si sedette sull'orlo della poltrona su cui riposava la marchesa e prendendo fra le sue la mano dell'amica rispose senti cara mi devi giurare di non ripetere mai a nessuno quel che sto per confessarti te lo giuro su ciò che hai di più sacro su ciò che ho di più sacro ebbene sappi che mi sono vendicata di simon l'altra sgramò hai fatto benissimo vero figurati che dai sei mesi a questa parte era diventato ancor più insopportabile in tutto e per tutto quando lo sposai sapevo che era brutto ma lo credevo buono come sbagliavo lui certo aveva pensato che l'amassi nonostante la pancia il suo naso rosso infatti si mise a tubare come un colombo io sai ridevo e fu per questo che cominciai a chiamarlo piccione è proprio vero che gli uomini si fanno curiosi idee su se stessi simon quando ebbe capito che avevo per lui soltanto dell'amicizia diventò sospettoso cominciò a dirmi cose sgradevoli a darmi della civetta a dire che ero in fida e non so più che altro e poi la situazione diventò più grave per perché è difficile dirle certe cose insomma era molto molto innamorato di me e me lo dimostrava spesso troppo spesso o cara che supplizio essere amata da un uomo ridicolo davvero non ne potevo più più è come farsi strappare un dente ogni sera anzi è peggio insomma immagina fra i tuoi conoscenti un uomo molto brutto molto ridicolo molto ripugnante con un pancione così e con grossi polpacci pelosi ti pare di vederlo non è vero ebbene immagina anche che quell'uomo sia tuo marito e che tutte le sere mi capisci che cosa odiosa odiosa a me dava nausee vere nausee con relativo risultato proprio non ne potevo più ci dovrebbe essere una legge che protegge le mogli in casi simili pensa pensaci bene ogni sera che porcheria non avevo sognato amori poetici no mai non ce ne sono più tutti gli uomini nel cosiddetto gran mondo sono staglieri o banchieri amano soltanto i cavalli o il denaro e se amano le donne le amano come i cavalli per farle vedere nei loro salotti così come si fa sfoggio al bosco di bologna di una bella pariglia nient'altro la vita è tale oggigiorno che il sentimento non esiste più viviamo dunque da donne pratiche indifferenti anche gli adulteri non sono più altro che incontri irregolari nei quali si ripetono ogni volta le stesse cose e d'altra parte per chi si potrebbe avere un po d'affetto di tenerezza gli uomini i nostri uomini sono in generale solo dei fantocci per bene assolutamente privi di intelligenza e di delicatezza se cerchiamo un po di spirito come si cerca l'acqua nel deserto cerchiamo intorno a noi qualche artista e ci vediamo capitare qualche posatore insopportabile o bohemian maleducati io vado cercando un uomo come lo cercava diogene un uomo solo in tutta la società parigina ma son certa di non trovarlo e presto spegnerò la mia lanterna ma torniamo a mio marito poiché mi irritava troppo vederlo entrare nella mia camera in camicia mutande a tutti capisci per tenerlo lontano e ispirar di avversione prima si arrabbiò poi diventò geloso e sospettò che lo tradissi da principio si accontentò di sorvegliarmi guardava con occhi di tigre tutti gli uomini che venivano in casa dopo un po di tempo cominciò la persecuzione si mise a seguirmi dappertutto impiegò i mezzi più odiosi per cercare di sorprendermi arrivò perfino a non lasciarmi più parlare con nessuno alle feste da ballo stava dietro a me sforgendo il suo testone di cane da caccia appena aprivo bocca mi seguiva al buffet mi proibiva di ballare col tale e col talaltro mi conduceva via a metà del cotillon mi rendeva sciocca e ridicola mi faceva passare per non so che cosa allora smisi di partecipare alla vita di società nell'intimità le cose andavano anche peggio figurati che quel mascalzone mi dava della quasi non oso ripetere la parola della sgualdrina sì mia cara la sera aveva il coraggio di dirmi con chi sei stata letto oggi io piangevo e lui era contento di sé e poi sempre peggio un giorno della settimana scorsa mi condusse a pranzo agli sciampi di sé il caso folle che bobignac venisse a sedersi a una tavola vicino alla nostra simon cominciò a pestarmi i piedi con furore e a brontolare sul piatto degli antipasti mi hai dato un appuntamento svergognata te ne dovrai pentire e non potresti mai immaginare cara quel che fece allora prese furtivamente lo spillone del mio cappello e mi punse il braccio qui senza pietà mi lasciai sfuggire un grido accorse molta gente e io recitai una odiosa commedia di dolore frattanto pensavo mi vendicherò e presto prestissimo tu che cosa avresti fatto mi sarai vendicata ebbene già fatto come ovvia non capisci ma cara insomma sì sì che cosa pensa un po al suo muso ti par di vederlo non è vero col suo faccione col suo naso rosso coi suoi favoriti cascanti come orecchie di cane sì pensa inoltre che è più geloso di una tigre sì dunque dissi fra me mi vendicherò per conto mio e anche per marì infatti mi proponevo già di dirti tutto soltanto a te beninteso ora pensa alla sua faccia e pensa nello stesso tempo che lui è quel che merita di essere ah l'hai sì cara ma non dirlo a nessuno giurami ancora che non lo dirai a nessuno accontentati di immaginare come comica adesso la situazione da questo momento simon mi sembra interamente cambiato e rido ma da sola pensa alla sua brutta faccia la baronessa guardava l'amica e la risata che già da un po di tempo le stava salendo dai precordi le proruppe finalmente dalla gola e la rise rise convulsamente presa come da una crisi di nervi e con le mani sul seno con il viso contratto col respiro mozzo si chinava in avanti sembrava stesse per cadere bocconi allora la marchesa rise anche lei allo stesso modo quasi congestionata fra una cascatella e l'altra di piccoli gridi acuti e trillante ripeteva pensa pensa che cosa buffa pensa al suo faccione al suo naso ai suoi favoriti quanto è buffo ma ricordati non dirlo non dirlo a nessuno mai quasi soffocavano tutte e due dal gran rider incapaci di parlare piangiando vere lacrime in quel delirio di larità la baronessa si calmò per prima e ancora tutta palpitante esclamò raccontami raccontami come hai fatto dimmi tutto ah che cosa curiosa ma la marchesa non poteva ancora parlare speditamente balbettava quando ebbi deciso mi son detta tu presto lo devi fare subito e l'ho fatto l'ho fatto oggi oggi sì poco fa e ho detto a simone di venirmi a prendere qui da te per divertirci verrà fra poco fra poco sarà qui pensa alla sua faccia la baronessa non rideva più come prima ma ansimava come dopo una corsa riprese dimmi come hai fatto dimmelo semplicissimo ho detto fra me è geloso di bubignac ebbene lo tradirò con bubignac è un imbecille ma onestissimo e non parlerà e dopo desinare sono andata da lui a caggia sua ma con quel pretesto una questua per gli orfanelli racconta su via racconta profondamente stupito di vedermi non riusciva a cucire insieme due frasi poi mi ha dato due luigi per la mia questua e mentre mi alzavo per accomiatarmi mi ha domandato notizie di mio marito allora ho finto di non potermi più frenare e ho parlato ho parlato dei grandi torti di simone verso di me ho anche esagerato parecchio puoi esserne certa e poco a poco bubignac si è commosso si è messo a cercare in qualche modo di essermi utile di venirmi in aiuto e ho cominciato a piangere ma come si piange quando si vuole essere consolate lui ci si è messo d'impegno ha voluto che mi sedessi ancora e poi siccome non mi calmavo mi ha baciata io dicevo amico mio ce sapeste amico mio e lui mia povera amica e mi baciava continuava a baciarmi e ha continuato fino alla fine ecco dopo ho avuto un accesso di disperazione e l'ho colmato di rimproveri oh l'ho trattato male gliele ho dette di tutti i colori ma avevo una gran voglia di ridere pensavo a simone alla sua faccia ai suoi favoriti a quanto riso poi da sola nel venire da te non riuscivo a frenarmi pensa cara è fatta simone è servito lui che temeva tanto che gliele facessi ormai qualunque cosa accada quel che è stato è stato potranno venire guerre terremoti epidemie potremo morire tutti quanti ma simone avrà avuto quel che si meritava è fatta la baronessa cominciava ad avere un nuovo impeto di folle e larità domandò rivedrà il bubignac no no certo basta non sarebbe preferibile a mio marito e si misero a ridere tutte e due con la stessa violenza di poco prima una scampanellata interruppe quella nuova effusione del loro buon umore la marchesa morborò e lui guardano bene l'uscia saprì e comparve un uomo panciuto dalla faccia accesa dalle labbra grosse dai favoriti cascanti era serio volgeva intorno sguardi sospettosi e irritati le due donne lo guardarono per mezzo minuto poi si pregarono sulle poltrone in un vero delirio di larità che le fece gemere come se soffrissero atrocemente lui ripeteva a voce cupa ma insomma siete impazzite siete impazzite grazie a tutti